Sconti Deghi, tanti mobili d'ufficio a prezzi mai visti. I mobili d'ufficio in sconto da Deghi, fino al 30 settembre 2024, sono perfetti per chi vuole modernità. Che si tratti di arredare l'ufficio o creare un angolo studio, Deghi offre la soluzione fino al 30 settembre 2024. Elementi d'arredo per rivoluzionare uffici e stanze di casa sono in offerta da Deghi, fino al 30 settembre 2024. Scegli la cassettiera in acciaio nero per spazi ridotti. Ordine e design a 69,95 euro nei mobili Deghi.